Se ferita in tesi compie la sola guarigione è il titolo della mostra che ripercorre l'esperienza umana e artistica di Giovanni Testori e che nasce dalla passione di un nostro amico di lettere per l'autore. A partire dalla lettura dei suoi testi e in particolare delle opere teatrali, abbiamo scoperto che la ferita, la crepa, quando viene accettata e amata, diventa lo spiraio attraverso cui entra una nuova luce. Per cui vi aspettiamo in mia zamboni dall'8 al 10 maggio e ci teniamo ad invitarvi all'incontro tra Giuseppe Frangi, nipote di Testori, e Luca Doninelli, giornalista nonché amico di Testori, che si svolgerà in piazza Scaravilli alle ore 19 l'8 maggio.